Si arricchisce di una linea telefonica lo sportello antiviolenza Angelas, istituita al comune di Gera lo scorso 8 marzo. Il numero di telefono da cui rispondono le assistenti sociali è 0933 906745. Lo ha reso noto l'assessore comunale servizi sociali Licia Abela, che ha presentato il servizio attivo tre giorni alla settimana, così come previsto dal relativo progetto rivolto a donne e minori vittime di qualsiasi tipo di violenza. I giorni di apertura dello sportello sono il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Una linea telefonica a supporto delle donne e dei minori vittime di violenza, violenza non solo fisica ma anche psicologica, economica, di qualsiasi tipo. Un servizio che va a supporto e a potenziare quello che è già l'attività dei nostri collaboratori ai servizi sociali. Il numero da chiamare è 0933 906 745, il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30. Quindi un supporto sia telefonico ma anche ovviamente la possibilità di incontri personali qui al secondo piano del plesso dei servizi sociali presso il comune di Gela. Ovviamente la rete è una delle caratteristiche principali dello sportello Angelas, infatti qualora ci fosse bisogno non mancheranno supporti psicologici, anche delle forze dell'ordine, anche supporti sanitari qualora appunto venisse richiesta in base alla tipologia dell'intervento. Quindi una vera e propria rete che si mette a disposizione dei minori e delle donne vittime di violenza. Qualsiasi essa sia, questa può essere in qualche modo tutelata e aiutata all'interno di questi spazi. C'è stata una grossa spinta per attivare anche questo servizio telefonico nella maniera più veloce possibile, proprio per dare un supporto anche a chi dovesse avere l'esigenza, avesse in qualche modo delle reticenze a recarsi presso gli uffici fisicamente. Quindi una linea telefonica che possa essere a supporto delle donne, per esempio, che possono anche avere dei momenti di particolare bisogno di supporto psicologico, penso ad un postpartum, penso a dei momenti particolari nella vita di tante donne, di tanti minori, che in questo momento vivono una situazione magari di disagio. Quindi proprio a loro io rivolgo la mia attenzione e il mio pensiero, visto anche gli ultimi fatti di cronaca molto gravi che si sono succeduti in città. Le soluzioni ci possono essere, i professionisti sono a disposizione e qualsiasi tipologia di situazione nella quale appunto ci si possa trovare, può sicuramente trovare una risoluzione in una maniera molto semplice e molto professionale. Quindi il mio invito è quello ad utilizzare questi strumenti che il Comune e tutta la rete mette a disposizione, perché nessuno debba sentire l'esigenza di, nemmeno il pensiero deve essere sfirato di pensare di fare dei gesti estremi.